Buongiorno a tutti, oggi riprendo su questo canale l'analisi dei film di spionaggio che sono stati un cavallo di battaglia negli ultimi mesi poi con la fine della messa in onda dei film di James Bond è andato un po' calando la frequenza in questo canale e l'ho voluto in questa occasione riprenderla e la riprendo partendo da una lettera che io scrissi 19 anni fa al Corriere della Sera a proposito di un articolo di terza pagina che fu pubblicato a firma del giornalista saggista Giovanni Mariotti un articolo dal titolo Il Precursore della Spectre che appunto venne pubblicato l'8 agosto del 2001 sul Corriere della Sera adesso io non mi ricordo precisamente il contenuto di questo articolo sono andato anche sul suo Corriere della Sera solo che è a pagamento per l'archivio quindi non sono riuscito a individuare, non si vede benissimo il testo però vi confermo, per chi ha interesse è l'8 agosto del 2011 bene, io vi leggo questa lettera che ho scritto a questo signor Mariotti e poi commentiamo il film citato egregio signor Mariotti è evidente che lei abbia una notevole conoscenza sulle abitudini, qualità e manie del personaggio ideato da Ian Fleming ma mi pare che lei nel suo articolo Il Precursore della Spectre pubblicato oggi sul Corriere si sia confuso lei dice dal profumo dello zafferano in una buiabess è capace di riconoscere la trattoria del porto di Malsiglia in cui è stata preparata in realtà colui che aveva questa qualità non era James Bond ma bensì Flint interpretato da James Coburn nel film Howard Manflint 1965 di Daniel Mann egli asserisce che per la vera buiabess la proporzione è due spicchi d'aglio, un pizzico di zafferano e una punta d'aglio questo, vabbè, evidentemente ho un attimo sbagliato comunque, è comunque inutile dire che lo stesso Bond lo avrebbe saputo fare visto che oltre al sake conosceva tra le tante cose anche le annate del Don Perignon e dello Sherry evidentemente con questa mia precisazione apparirò superbo e pignolo ma Bond non ha queste stesse qualità? non sono forse un buon Bondiano? ecco, con questa lettera di ormai 19 anni fa, avevo 22 anni vi introduco il film Il nostro agente Flint con James Coburn, appunto di cui parlava inconsapevolmente Giovanni Mariotti in questo articolo film del 66, distribuito in Italia nel 66, è la del 65 regia Daniel Mann un film che faceva il verso, un film americano della 22 Century Fox che faceva il verso alla mania di James Bond ma anche a tutta quella serie di film di spionaggio che impazzavano, appunto, nella metà degli anni 60 tra l'altro sarebbe stato anche oggetto anch'esso di caricatura, di satira dall'italianissimo film Il vostro super agente Flit con Raimondo Vianello, sempre del 66 detto questo, il film è un film molto interessante anche per il cultore di James Bond perché sa dosare in maniera molto ironica gli elementi classici delle pellicole tratte dai romanzi Ian Fleming è stato definito un po' kitsch pop nel senso che questo personaggio, questo Flint che è un personaggio molto stravagante non è al soldo del servizio segreto americano ma viene chiamato periodicamente, ha un caratteraccio è molto burbero, ha un tipo di atteggiamento poco ortodosso nella gerarchia delle istituzioni politiche americane, politiche amministrative americane e in questo senso si caratterizza per tutta una serie di particolari ha in casa una sorta di harem che però è un harem molto attento alle necessità delle sue donne quindi non è un maschilista fino a un certo punto e questo verrà caratterizzato anche fino alla fine del film che avrà un suo finale simpatico che ricorderà tra l'altro film successivi di James Bond perché poi alla fine vedremo come il presidente degli Stati Uniti vorrà congratularsi con Flint per una serie di attività e lui si disinteressa alla telefonata del presidente degli Stati Uniti per accomodarsi con le sue numerose donne e ci assomiglia per certi aspetti un po' sia l'uomo della pistola d'oro che Moorraker Operazione Spazio ma anche solo per i due occhi in questo senso il film ha dei richiami nettissimi con la saga di James Bond innanzitutto perché sin dall'inizio viene chiesto al servizio segreto britannico se poteva essere chiamato 000 o 0008 ma era indisponibile un personaggio che poi in realtà tornerà e verrà appunto che avrà un attore che avrà le sembianze molto vicine a quella di Sean Connery che ci sarà un dialogo con Flint stesso e parleranno anche della Spectre però in questo senso l'accenno è molto così sfuggente però è importante perché ci sono questi chiari riferimenti anche nelle scenografie con queste ambientazioni molto esotiche dei grandi cattivi che hanno delle grandi obiettivi con delle minacce nei confronti del mondo poi vedremo abbastanza anche scoppiettanti il film è ambientato essenzialmente negli Stati Uniti a Marsiglia anche a Roma sono delle ambientazioni un po' kitsch di Roma e però ripeto ha un sarcasmo una capacità molto molto avvincente un altro sarebbe stato anche seguito da un sequel sempre interpretato da James Coburn un James Coburn molto al suo agio in questo ruolo Coburn che nella metà degli anni 60 aveva raggiunto un notevole successo dopo grandi pellicole come Magnifici 7 La Grande Fuga che l'avevano reso molto molto richiesto tra l'altro nel 64 sarebbe stato richiesto da Sergio Leone per un pugno di dollari ma era sicuramente al di sopra dei budget che la produzione italiana poteva garantire tant'è che si ovviò per un semi sconosciuto Clint Eastwood e James Coburn con la sua fisicità molto magro molto alto, capello brizzolato con in questo ruolo una figura che usa la violenza con molta parsimonia che conosce oltre un sacco di lingue conosce il karate conosce tutta una serie di attività sportive che gli saranno utili in diverse occasioni costruisce secondo me un'alternativa valida ovviamente incommensurabile rispetto alla mostruosità di James Bond ma che comunque sa crearsi un suo pubblico tanto che Giovanni Mariotti lo confonde con James Bond quindi questo secondo me è un elemento che viene rafforzato poi i riferimenti a James Bond sono ulteriori cioè a un certo punto il capo del Servizio Segreti Americani che gli vuole dare una valigetta con un pugnale e lui rifiuta dicendo che è una situazione rosa quindi è identica all'arma che è la peligetta che viene data da Q a James Bond in Della Russia con Amore gli viene proposta una Walter P.P.K come quella di James Bond e lui la rifiuta preferisce avere una sorta di accendisigari con tutta una serie di ammennicole una sorta di coltellino svizzero antelitteram e in questo punto c'è tutta una ricostruzione e un rafforzamento di questo personaggio che sarà poi iconico nei decenni a venire pensiamo come uno dei cattivi di questo film che si chiamerà Hans Gruber verrà ripreso il suo nome nel film Die Hard o Trappola di Cristallo oppure alcuni riferimenti come il telefono con un squillo molto particolare verranno utilizzati nei film di Austin Power quindi in questo senso è sicuramente sia nel contesto specifico ma anche nella tradizione di elementi dello spionaggio al cinema negli anni 60 e negli anni 90 a seguire un personaggio che ha avuto il suo ruolo ripeto, James Coburn lo si ricorda essenzialmente anche e soprattutto per altre cose il film, anche il segue, non fu poi sì, fu uno dei successi ma oggi come oggi in pochi lo ricordano rispetto ad altre pellicole di spionaggio però secondo me ha avuto il suo perché e quindi vale la pena ricordarlo e ricordarlo anche a Giovanni Mariotti che tra l'altro non mi ha mai risposto su questa lettera che gli mandai l'8 agosto del 2001 detto questo vi invito come al solito a mettere mi piace al video iscrivetevi al canale dimenticavo le musiche molto avvincenti di Jericho Smith che richiamano per certi aspetti alcune tonalità non so se è voluto non so se ci furono degli scambi con di Harry Mancini nei film soprattutto Hollywood Party così detta butta da là comunque tornando a noi iscrivetevi al canale alla prossima, ciao! ciao!